Parole forti ragazzi, parole davvero di chi vuole cambiare le cose, parole di chi vuole mettere in atto una rivoluzione. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì. Oggi Emian gioca contro la Lazio stasera all'Olimpico, ma ovviamente dobbiamo soffermarci sulle parole del proprietario Gerry Cardinale, che ieri sera insieme a Zlatan Ibrahimovic hanno preso parte a questo meeting al Financial Times, dove ha parlato di tutto, ha parlato del ruolo di Zlatan Ibrahimovic, ha parlato della delusione sia di Ibra, di Zlatan, ma anche dello stesso Gerry Cardinale per l'appiazzamento attuale in classifica. Emian non può stare a meno 16 dall'Inter, Emian vuole essere sempre al primo posto, vincere. Un Gerry Cardinale che si scaglia anche contro i preparatori atletici del Milan, lui dice io metto i soldi ma poi i giocatori non li vedo in campo e c'è qualcosa che non va. Gerry Cardinale che parla anche di stadio, che parla appunto del ruolo di Zlatan, una chiacchierata a 360 gradi dove mostra grande delusione per la stagione del Milan e promette cambiamenti. Ecco questa forse è la chiave di lettura, i cambiamenti che dovrebbero esserci la prossima estate. D'altronde lui non è che si fa tanti problemi ragazzi, è uno che ha cambiato Paolo Maldini, che è la storia del Milan, che è una bandiera del Milan, lo ha fatto con una colazione, in dieci minuti gli ha comunicato l'addio, non credo che si faccia problemi nel cambiare magari l'allenatore e lo staff dei preparatori all'interno del centro sportivo di Milanello, perché comunque la delusione riguarda più quello che avviene a Milanello dal punto di vista sportivo. L'abbiamo interpretata così, anche perché Gerry Cardinale era insieme a Zlatan Ibrahimovic, li ha raggiunti poi anche Giorgio Furlani, quindi i tre erano insieme ieri sera, dopo il viaggio in Abu Dhabi, il viaggio d'affari da parte di Giorgio Furlani, ha raggiunto i due a questo forum. Ma partiamo subito con il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, perché l'altro giorno quando ho fatto il video, attenzione che Ibra ha sempre più potere, Ibra è sempre più importante all'interno delle decisioni, magari anche in estate sul mercato, verrà ascoltato il suo parere, verrà ascoltato il suo punto di vista, voglio ricordare che Ibra non ha potere di firma, quindi non è lui che va a firmare i contratti, perché non ha potere di firma, però Ibra ha un ruolo sempre più importante. Qualcuno sotto al video ha scritto ma non è vero, Ibra, figurati, Cardinale ha cacciato Maldini, ora Ibra è soltanto un fantoccio, Ibra è solamente una marionetta, non è così, Zlatan è furbo, Zlatan è una persona sgamata, è anche un businessman, se Ibra decide di fare questo tipo di ruolo, di svolgere questo tipo di ruolo, perché ci ha pensato tanto, infatti Ibra non ha firmato subito, Ibra ha firmato dopo 4 mesi di corteggiamento, e lo stesso Ibra dice che ha avuto un'offerta irrinunciabile da parte di Jerry Cardinale, ma sapete chi è Ibra Imovic? Ibra è il braccio destro di Jerry Cardinale, il proxy di Jerry Cardinale, ovvero si può dire che è come se lui fosse un tramite, un'estensione di Cardinale a Milano, ed è un ruolo importantissimo, sono gli occhi di Cardinale a Milanello, e questo lo fa diventare, lo erge a figura elevatissima, figura importantissima, altro che marionetto o burantino, Ibra Imovic è Cardinale a Milanello, sono i suoi occhi, sono il suo punto di vista, il suo tramite, la sua estensione milanese, lo dice proprio Cardinale, Zlatan mi permette di essere negli States, e allo stesso tempo a Milano, sul campo a Milano, lo abbiamo assunto il Redbird, specificatamente per tutto quello che può fare nel calcio, ma soprattutto è il mio proxy, cioè un tramite, un'estensione, ci sentiamo più volte al giorno, più volte al giorno, non a settimana, e ha l'autorità di essere la mia voce, con i giocatori, con lo staff, e con chiunque al Milan, è molto importante, soprattutto perché ha tanta credibilità per farlo, se avessi preso una persona da New York, che l'avessi messa nel Milan, avrebbe avuto ovviamente, meno credibilità di Zlatan Ibrahimovic, e poi veniamo all'elemento principale, di questa intervista, la delusione, il Milan, o meglio, Gerry Cardinale, ma anche Zlatan, sono delusi dalla stagione del Milan, come lo siamo tutti, il Milan non può essere a meno 16, dall'Inter al primo di marzo, oggi è il primo marzo, vediamo come va la partita di stasera contro la Lazio, lui dice siamo delusi, cerchiamo di essere responsabili, per quanto riguarda la nostra struttura degli stipendi, e come la costruiamo, se facciamo tutto questo lavoro, e poi al momento di giocare, non abbiamo tutti questi giocatori a disposizione, qual è il punto di tutto questo sforzo? Lui semplicemente dice, noi compriamo giocatori, li compriamo, ma non li sfruttiamo, non li possiamo utilizzare, perché sono infortunati, e allora c'è qualcosa che non va, quindi dritto come un treno, sulla questione infortuni, sulla questione preparazione atletica, e quindi conseguenza anche responsabilità di Stefano Pioli, perché i preparatori sono responsabili, insieme allo staff di Stefano Pioli, poi ovviamente addolcisce un po' la pillola, dice non puoi prendertela solamente con lo staff, perché i giocatori sono anche sotto un sacco di stress, giocano troppo partite, e anche questo è vero, però ecco, prima lo dice, dice qual è il senso di tutto questo, se compri i giocatori ma non li hai a disposizione per gli infortuni, è un po' tutto quello che abbiamo sempre detto, lui però lo dice chiaramente, tutto intorno al Milan ha bisogno di cambiare, anzi userei la parola evolvere, e vediamo qual è questa evoluzione, io penso ragazzi che dopo queste parole, sia difficile che il Milan venga confermato in toto, quindi con allenatore, staff medico, atletico, al termine di questa stagione, in molti dicono l'Europa League può cambiare il destino di Pioli, e l'Europa League può dare ancora a Pioli una chance di rimanere al Milan, secondo me è difficile, perché poi l'anno prossimo ti ritrovi di nuovo con il problema infortuni, e comunque se non vuoi cambiare Stefano Pioli, allora devi cambiare tutta l'impalcatura dei suoi preparatori atletici, ed è difficile che Pioli accetti l'uscita dal Milan dei suoi fedelissimi e lui rimanga al Milan, quindi io penso che si vada verso un cambiamento, un'evoluzione come dice Gerry Cardinale, cambiamento è una parola da nero o bianco, come se dovessi buttare tutto all'aria e ricominciare, non c'è bisogno, evolversi è un processo migliore, il Milan vuole evolversi, guarderemo al personale, abbiamo avuto un sacco di infortuni, non sono soddisfatto, Zlatan non è soddisfatto di non essere al primo posto in Serie A, ma ci arriveremo, siamo una scuola giovane e nuova che attualmente non sta facendo male, ma non fare male non vuol dire necessariamente fare bene, abbiamo tanto lavoro da fare, cioè lui dice non siamo soddisfatti di essere terzi in classifica, vogliamo essere al primo posto, guarderemo al personale, abbiamo avuto un sacco di infortuni, ecco è una dichiarazione molto forte, ma è anche giusta, reale, veritiera, è quello che abbiamo sempre detto tutti, poi infine conclude con lo stadio, alla domanda che fa l'intervistatore Gerry Cardinale, la domanda è allora costruirà il nuovo stadio del Milan? Sì, risposta secca sì, poi dice noi abbiamo fatto in 18 mesi più progressi di tutti gli altri in Italia, in effetti è vero perché il Milan negli ultimi mesi si è mosso molto bene per la costruzione dello stadio a San Donato, quindi comunque va avanti per quella strada lì, io penso che da questa intervista di Cardinale emergano tre elementi principali, il primo chiarisce una volta per tutte il ruolo di Zlatan, per chi era dubbioso ora ha capito che Zlatan Ibrahimovic è praticamente Gerry Cardinale a Milano, è il suo braccio destro, sono i suoi occhi, ha un ruolo elevatissimo, anche per questo è stato definito Senior Advisor, non è un semplice dirigente ma è qualcosa in più, poi lo stadio, sì, si farà a San Donato, si va avanti, e terza cosa, la questione del personale, la questione degli infortuni, la questione che il Milan compra i giocatori ma non li può utilizzare per gli infortuni, quindi cambiamento nello staff e anche probabilmente dell'allenatore, non lo dice chiaramente, non nomina chiaramente Pioli ma è una conseguenza, insomma se tu cambi il suo staff cambia anche l'allenatore, vedremo, vedremo, sono parole comunque forti, hanno scosso un po' l'ambiente, vedremo anche gli effetti di queste parole che avranno stasera sulla squadra che giocherà contro la Lazio, c'è da blindare un posto in Champions League, noi ci salutiamo e ci vediamo più tardi.